Primo classi di capo ha vinto il patio del 3 settembre colpendo il centro del bersaglio. La freccia ha colpito in pieno la bulletta nera. Vince il patio delle malestre grandi Messer Giorgio De Angelis. Giorgio De Angelis è il vincitore del bando del 2 settembre. Giorgio De Angelis è il vincitore del palio, Messer Giorgio De Angelis. Giorgio De Angelis è premiato con la medaglia d'oro dai capitani reggenti. Ed ecco che arriva anche il cognolo, il cognolo con la freccia. Eccolo qua, maestro d'arme Messer Umberto Dolcini che va a consegnare il bersaglio, il cognolo con la freccia che ha colpito il centro del bersaglio. Questo è il tiro che ha regalato a Giorgio De Angelis la vittoria nel patio delle palestre grandi del 3 settembre. Giorgio De Angelis, pensate, aveva vinto il patio nel 2010. Nel 2010 Giorgio De Angelis si era giudicato il patio del 3 settembre. Ebbene, sei anni dopo, nel 2016, ancora lui, ancora Giorgio De Angelis va a vincere il patio delle palestre grandi.